Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. E' stato un successo incredibile il primo episodio, il primo episodio delle 10 cose che non sapevi su Whatsapp che ti metto qui, al posto di Frenkie. Lo vedi? Lo vedi? Basta che ci clicchi sopra e si apriranno una nuova finestra. E quindi replichiamo l'appuntamento e passiamo a un nuovo episodio delle 10 cose che non sai. Questa volta trattiamo un argomento molto interessante e molto importante per quello che mi riguarda. YouTube, sei sicuro di conoscere davvero tutto su questa piattaforma che stavo utilizzando proprio in questo momento? Secondo me non è proprio così. Andiamo a vedere. Numero 1. Parliamo di numeri perché come sempre mi fanno impassire, soprattutto quando andiamo a parlare di cifre così elevate. Un miliardo di visitatori unici utilizzano YouTube ogni mese e di conseguenza guardano miliardi e miliardi di ore di video al giorno. Tutto questo traffico ha reso YouTube il terzo sito più visitato del mondo dopo Google e dopo Facebook. E badate bene che YouTube è di Google come vedremo prossimamente e questo fa sì che il signor Google disponga di un paio di soldini da parte. Dato che Google è il primo motore di ricerca al mondo, YouTube è il secondo. E quindi Google possiede l'intero motore di ricerca di internet globale. Cazzarola. Io invece il massimo che ho è un iPhone e ne sono contento. Numero 2. Ma rimaniamo nell'ambito dei numeri e guardiamo un attimo quali video e quanti video vengono caricati giornalmente. Ogni minuto su YouTube vengono caricate 300 ore di video. Questo significa che nel minuto in cui ho guardato il mio video fino adesso altre 300 ore di video sono state caricate sulla piattaforma. E badate bene che il numero di video che vengono caricati su YouTube ogni mese è maggiore al numero di video che le tre maggiori televisioni, emittenti, network, chiamateli come volete, americani hanno caricato all'interno dei loro programmi negli ultimi 60 anni. Chissà quante puntate della prova del cuoco servono per reguagliare il numero di video caricati su YouTube in un giorno. Numero 3. Il primo video caricato in assoluto su YouTube si chiama Mi At The Zoo e dura 18 secondi. Ve lo metto qui. Nel video appunto vediamo un amico dell'inventore di YouTube durante una visita allo zoo semplicemente. E sentiamo anche una capra belare. Il video viene caricato il 23 aprile del 2005 all'interno del canale di Jawed. E se andiamo a cercare questo canale noteremo che questo è l'unico video caricato dall'utente che è il creatore di YouTube, uno dei tre. E pensate che con quel singolo video questo canale conta ben 117.000 iscrizioni. Ma ballate bene, quel video che avete visto con l'omino allo zoo ha 28 milioni di visualizzazioni. Quel video lì, di 18 secondi, 28 milioni di visualizzazioni, quel video lì, proprio quello. Cazzo sì, quello lì. Eh, lo sapevo che per fare il boom su YouTube dovevo fare i video con gli animali. Quasi quasi vado a prendere il mio gatto e lo utilizzo come guest star, arrivo. Numero 4. Vi ho anticipato poco fa che gli inventori YouTube sono solamente tre. E adesso ci ritorniamo sopra. Il problema è che questi tre fenomeni non volevano inventare YouTube. Proprio neanche lontanamente. La piattaforma sulla quale state guardando questo video e sulla quale mi avete conosciuto è nata per sbaglio. L'idea madre era quella di un sito per incontri. In cui ogni utente iscritto avrebbe potuto caricare un breve video di presentazione con la speranza di trovare un giorno l'amore e l'anima gemella. Ehm, sono un ragazzo carino. Fallita l'idea, i tre ragazzi l'hanno accantonata e hanno completamente cambiato il loro target creando la prima versione del nostro tubo che conosciamo oggi tanto odiato e tanto amato allo stesso tempo. Numero 5. Nel 2006 Google fiutò l'affare. Pensando che il più grande sito di video hosting esistente al momento potesse avere la possibilità di fruttare qualche soldino. Nell'ottombre di quell'anno comprò YouTube per la cifra di 1,6 miliardi di dollari. E se ci penso ora, dopo aver girato e dopo avervi fatto vedere il video che vi ho detto all'inizio sulle 10 cose che non sapete su WhatsApp, penso che la cifra sia veramente bassa. Anzi, quasi credo che Google abbia fatto l'affare più grande della storia. Google 1,6 miliardi, WhatsApp 19 miliardi. Si vede che a Facebook piace spendere i soldi. E YouTube era praticamente un sito non nato perché era nato solamente 18 mesi prima. E quindi perché venderlo? Soprattutto ad un prezzo così basso. YouTube all'epoca viveva praticamente di battaglie contro gli avvocati e di cooperati infranti dai video caricati dagli utenti. Si stimava che ogni mese perdesse quasi mezzo milione di dollari in solamente battaglie legali tramite gli avvocati. Diciamo che invece Google è governato da persone che hanno sale in zucca e che decisero di acquistare la piattaforma con la possibilità di inserire all'interno delle pubblicità nei video e quindi monetizzarci sopra. Giustamente aggiungo io, perché se no Google non avrebbe mai comprato un sito che sarebbe stato solamente una perdita. E nel 2007 finalmente la partnership su YouTube cambiò praticamente tutto. Questa rivoluzione portò a tantissimi creatori di contenuti all'interno del sito e quindi tantissimo pubblico pronto a guardare i lavori che proponevano. Poi nel 2015 decise di chiudere i feed, di annullare automaticamente le iscrizioni degli utenti ai canali che seguono, di pagare meno le visualizzazioni all'interno del video e nei primi mesi del 2016, eh me, fu costretto a chiudere, ma questa è un'altra storia. Numero 6 In YouTube sono nascosti diversi easter egg. Per rimanere in tema Star Wars, dato che da poco è uscito il settimo film della storia, provate a cercare Use the Force, Luke, all'interno della barra di ricerca di YouTube. Ah, ovviamente mettete in pausa il mio video, aprite un'altra scheda e cercatela lì, perché se no vi perderete tutte le altre cose che non sapete su YouTube e il mio video finisce qui e non mi sembra giusto. Avete visto cosa succede? Incredibile, vero? Un altro easter egg carino presente sulla piattaforma è questo. Ricordate questa canzone? Con lo terrorista Come dimenticarla? Bene, cercate Do the Harlem Shake all'interno della barra di prima, non di questa perché se no non vedete più il mio video. Ed ora godetevi lo spettacolo. Numero 7 Il video più visto in assoluto all'interno di YouTube è Gagnam Style di Psy con 2 miliardi e mezzo di visualizzazioni ricevute. E io che se questo video raggiungerà le 10.000 sarò contento come una pasqua, cosa dovrei dire? E Gagnam Style l'ha addirittura rotto YouTube nel dicembre 2014. Durante la stesura del codice YouTube si è dovuto pensare a un numero massimo di visualizzazioni che potesse raggiungere un video. Si è quindi pensato di utilizzare un numero intero a 32 bit in grado di contenere, e questo me lo leggo perché è un numero che non mi posso ricordare mai, 2 miliardi, 147 milioni, 483 mila, 647 visualizzazioni totali. Nel momento in cui il video ha raggiunto esattamente quella cifra, YouTube si è bloccato, ovviamente. E si è ridevuto programmare il sito con un'architettura a 64 bit. Google dopo questo fatto ha ammesso che quando hanno programmato avevano pensato che fosse impossibile che un video raggiungesse, superasse, il numero di visualizzazioni racchiuse in 32 bit. Ma che Psy con la sua super canzone virale ha sorpreso tutti facendo cambiare le carte in tavola. Quindi un applauso a Tohiri, il presidente dell'Inter. Guarda, complimenti. Per farvi capire la grandezza delle visualizzazioni di Gangnam Style, pensate che il secondo video più visto su YouTube è Baby di Justin Bieber. Con appena un miliardo e duecento milioni di visualizzazioni. Roba da ridere, che schifessa. Ma udite, udite, ha la cifra record di 5 milioni e mezzo di dislike alla faccia degli haters. Numero 8 E gli haters del nostro Justin non sono i tipici leoni da tastiera che si limitano ad offendere e insultare sotto il video. Anzi, nell'estate del 2010 un gruppo di hacker riuscì ad entrare nel sistema e reindirizzare tutti i visitatori che aprivano il video del buon Justin Bieber all'interno di un sito porno. Tra l'incredulità generale dei visitatori. Cioè, pensate voi se io devo andare a vedere Justin Bieber e mi ritrovo davanti un bel pisel. Non saprei dire quale delle due pistole sarebbe peggio. Numero 9 Ogni giorno le persone guardano l'equivalente di 500 anni di video di YouTube. Solamente tramite i video che vengono condivisi su Facebook. E sì, basta così. Sì, lo so che questa cosa è molto corta, ma capitela. È forse una delle cose più incredibili di sempre. Numero 10 YouTube è tradotto in 76 lingue diverse. Coprendo il 95% della popolazione di internet. Quindi vuol dire che esiste il 5% di sfigati che quando vanno su YouTube non trovano contenuti nella loro lingua. La popolazione italiana è al sesto posto nell'utilizzo di YouTube. Con un'età media che va dai 18 ai 54 anni. Significa quindi che il fenomeno YouTube è diffusissimo all'interno del nostro paese. Partendo dai ragazzini di 18 anni e arrivando fino agli uomini di mezza età. O alle donne di mezza età. Anche se a giudicare dalla community italiana di YouTube, penso che il dato inerente alle statistiche dell'età sia sbagliato. Dato che ci sono sempre meno minorenni che guardano video su YouTube. E non è per offendere, è proprio un dato rifatto. Numero 11 Ebbene sì, esiste addirittura una cosa bonus, una cosa addizionale che non sapete all'interno di questo video. Mi correggo, forse è questa la notizia più sconvolgente dell'intero pacchetto. E guarda, sono pronto a scommettere che dopo averla sentita sorriderai divertito. Sei pronto per sentirla? Sappi che potrebbe sconvolgerti la vita. A te la scelta. Studi scientifici dimostrano che se non metterai mi piace a questo video e non ti iscriverai al canale di Foolish, per tutto il prossimo mese ogni persona che incontrerai avrà diritto a insultarti, picchiarti e offenderti. Io non volevo assolutamente arrivare a questo punto, ma sono cose che non decido io, quindi non prendertela con me perché sono innocente. Ma attenzione, puoi benissimo risolvere la situazione eseguendo queste due semplici e gratuite opzioni. Tanto il tasto iscriviti è qui da qualche parte, c'è stato per tutto il tempo, e la barra dei mi piace è qui sotto. E se poi ti è piaciuto il video, perché no, magari condividerlo su Facebook o su Whatsapp per farlo arrivare anche a tutti i tuoi amici. Dai, mettilo. Alla fine, il sorrisino te l'ho strappato davvero. Ciao. Ciao. Ciao